I laser a semiconduttore sono dispositivi optoelettronici che emettono luce monocromatica. Sono utilizzati per le comunicazioni in fibra ottica e permettono di navigare su internet a grande velocità. Nel mio progetto studio un particolare tipo di laser a semiconduttore a singola sezione, il comb laser, dalla parola inglese comb pettine, perché permette di generare contemporaneamente un pettine di lunghezze d'onda equispaziate. Con un solo dispositivo si può trasmettere più informazione in modo efficace ed a basso costo. I dati sperimentali dimostrano l'esistenza di una relazione di sincronismo tra le fasi di ogni lunghezza d'onda, ma non ne sono chiare le origini fisiche. Questa proprietà permette di mantenere le lunghezze d'onda equispaziate, un notevole vantaggio per i sistemi di comunicazioni ottiche. Nel progetto svilupperemo un simulatore numerico per chiarire le origini fisiche del sincronismo e per progettare nuovi dispositivi. Grazie al bando talenti potrò creare un giovane gruppo di ricerca che lavorerà sulle tematiche più attuali riguardanti l'integrazione dei laser a semiconduttore in sistemi elettronici. Il progetto ComLaser ci permetterà inoltre di rafforzare le collaborazioni con importanti gruppi di ricerca in Europa. Il mio nome è Mariangela Giovannini e sono professore associato al Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni.